Grazie a tutti. Adesso probabilmente si può dire senza troppe cautele e vi ringrazio perché oggi abbiamo in programma un'iniziativa che va esattamente nella linea che stiamo seguendo in questo momento che è quella di creare opportunità. Alla fine la fiera non è fare allestimenti ma è creare opportunità e le aziende si offrono attraverso incontri qui ma anche partnership, nuovi canali eccetera. Oggi parliamo di un'iniziativa nuova in un senso proprio neanche tecnologico, proprio di formato e con uno dei mercati più interessanti per noi. Poi abbiamo visto i dati di Federorafi proprio di qualche giorno fa che abbiamo distribuito giusto prima della fiera. Della fiera l'America ha tirato ed è proprio prima tra i mercati nostri dell'export. non è rilevante rispetto al 2020 ma anche verso il 2019 continua a crescere ma la cosa buona è che non ha shock, cioè continua a essere neanche steady growth, è proprio continua a crescere ed è probabilmente la cosa più importante perché riesce a dare alle aziende l'opportunità di continuare a costruire sulla relazione fornitore-cliente che è poi il meccanismo virtuoso che ci fa presidiare molto meglio il mercato. Oggi parlo da italiano, tanto siamo... Quindi ringrazio Federorafi in primis, grazie Claudia per supportare questo tipo di iniziative e ovviamente tutte le aziende che sono qui e grazie Alberto per stimolarci e fare da Bridge come Camera di Commercio ma come italiano è super expert del nostro settore quindi sei la nostra antenna al di là dell'oceano che ci permette di innovare più velocemente e di capire cosa va lì. E quindi niente, non so ancora nulla del progetto ma insomma almeno sono sicuro che dalle basi e dai promotori insomma c'è molta competenza e conoscenza. Quindi grazie a tutti. È acceso? Sì. Beh, innanzitutto buon pomeriggio a tutti. Grazie Marco, aspetta che lo sistemo giusto. E grazie Alberto per l'opportunità e anche per avere anche scelto come patron federorafi per questo. Come diceva Marco, oggi parliamo appunto di Stati Uniti, di America, un mercato che per noi è diventato il mercato principale sia per la gioielleria, per l'oriofficeria e per l'argenteria italiana. Un mercato che dopo la crisi degli anni 90 è diventato di nuovo un punto di riferimento per il nostro comparto sia per quantità, per qualità e anche per tipologia di prodotto. Infatti nonostante i competitors, nonostante anche la competizione delle produzioni locali e soprattutto nonostante i dazi doganali che comunque penalizzano ancora molto il prodotto, soprattutto unbranded e comunque il Made in Italy riscuote un grandissimo successo nel Nord America. E proprio sono i dati che il sistema Eco-Industria Moda ha elaborato per federorafi che ce lo dimostrano. Se prendiamo ad esempio come prova il periodo intercorso tra il gennaio e maggio 2021 e lo paragoniamo ai medesimi periodi nel 2019 e nel 2020, registriamo un più 127% rispetto al 2020 e un più 67% rispetto al 2019. Questo sicuramente dovuto a quello che oggi si dice essere il fenomeno del revenge shopping perché è naturale che ci sia comunque un fenomeno che sicuramente rimane effimero ed è strettamente collegato a quelle che sono le conseguenze di un periodo pandemico però sicuramente significa anche una grande capacità delle nostre aziende a reagire a quelle che sono le nuove condizioni di mercato ad adattarsi e a rispondere in maniera adeguata. Io vi leggo alcuni dati che sono di particolare interesse e chiedo scusa se non li ricordo a memoria ma sicuramente altrimenti sbaglierei. Se guardiamo a consuntivo, gli ultimi 4 anni sono stati stipulati 38 accordi con 17 partner del dettaglio organizzato. Sono stati coinvolti ben 7.802 punti vendita. Sono stati ordinati in non consignment, quindi senza quella formula che molte volte diventa limitativa e limitante per le nostre aziende 222,4 milioni di dollari e le vendite reali invece ammontano a 341 milioni di dollari. Quindi sono dei dati che sono estremamente interessanti, sono dei dati che parlano da sole, che fanno capire e giustificano l'interesse delle nostre aziende nei confronti del mercato nordamericano e sono anche dei dati sfidanti per federografi e per quelli che sono gli accordi con anche di potenziamento del mercato con lice, ma soprattutto sfidanti perché si tratta di trovare anche degli strumenti innovativi che ci possano permettere di penetrare ulteriormente il mercato in maniera anche diversa rispetto a quella che è la nostra distribuzione tradizionale. Lo dicevo l'altro giorno all'opening, il mondo del digitale per il settore orafo non è un mondo, diciamo, così consueto, anzi tutto quello che appartiene al digitale è sempre stato più letto come un'opportunità ma non una necessità. Mentre oggi la situazione che si è creata con la pandemia ha fatto sì che effettivamente anche il nostro settore abbia compreso come il digitale sia a condizio sine qua non di un'operatività contemporanea. Ed è proprio all'interno di questo contesto che Federografi ha accolto l'iniziativa di Alberto e ha stipulato un accordo di reciproca, scusate, reciproca, non ce la faccio, reciproca partnership proprio in virtù della stesura di nuovi progetti e di nuovi programmi che possano porre in essere degli strumenti innovativi e quindi degli strumenti anche digitali rivolti e destinati alla multicanalità. Oggi Alberto presenterà il progetto Piazza Italia, una piattaforma B2B della quale penso alcuni abbiano anche già sentito ma che oggi comunque ha affinato la propria destinazione, grazie, mi sfuggiva il termine. E inoltre Alberto ci illustrerà anche una nuova piattaforma invece di matrice privata e non camerale rivolta a un B2C e quindi entrambe sono due opportunità che permettono al nostro settore di guardare alla distribuzione in un mercato così rilevante in maniera completamente diversa, con metodologie diverse e di conseguenza sono due piattaforme che ovviamente si possono anche destinare a target e tipologie di prodotti differenti. Io vi ringrazio, passerei la parola ad Alberto che sicuramente è più specifico di me e vi spiegherà molto meglio come funzionano entrambi gli strumenti. Penso sinceramente che sia un'occasione per tutte le aziende nostre da non sottovalutare e anzi da considerare con molta attenzione perché si tratta di una delle iniziative che al meglio interpreta e legge quelle che sono le esigenze della contemporaneità. Grazie. Allora, grazie Claudia, grazie Marco, ma grazie anche Stefano di aver facilitato questo incontro. Allora, io partirei con un tema e anche uno stile di presentazione è un po' diverso magari da quello con cui voi vi siete confrontati in questi giorni dandovi una lettura di come riuscire ad affrontare o migliorare la nostra performance all'estero, specialmente nel mercato americano. Allora, noi al di là dei dati molto positivi ci confrontiamo con fondamentalmente due variabili nuove. una è quella della logistica e della difficoltà della logistica non solo di movimentazione di merci ma anche di movimentazione di persone. Questa è la nuova normalità, non è una cosa che cambierà, sicuramente non cambierà nei prossimi mesi. Stiamo pensando che probabilmente avremo dei cambi magari così più significativi a luglio dell'anno prossimo, quindi abbiamo sicuramente ancora molti mesi davanti. Però una cosa che è importante e non sento quasi mai nelle discussioni noi facciamo riferimento alla nostra mobilità, magari in questo caso la mobilità americana, in realtà c'è una mobilità mondiale che deve essere riassestata, quindi non siamo solo noi a muoversi ma è tutto il resto del mondo. La seconda che è un aumento della parte digitale nei messaggi e nella comunicazione che così come concetto generale magari tutti abbracciano e capiscono però molte volte non ci si riesce a rendere conto della velocità dell'esecuzione che è aumentata in maniera esponenziale cioè oggi la gente ha bisogno di un contatto, di una velocità di reazione dei servizi che va dall'ordinarsi la colazione a casa o dal ristorante al gioiello. Però noi, lo dico come uno degli esperti nel campo, ci sono qua persone che hanno magari ancora più esperienza di me nel campo dei gioielli noi abbiamo anche la tendenza a pensare che noi viviamo una realtà così separata che comunque il gioiello è sempre diverso e viviamo fuori dalle regole che invece sono regole che sono applicate un po' in tutto il mondo il gioiello ovviamente è una parte di questa cosa. Come affrontare la nuova normalità, chiamiamola così secondo me non c'è un prima del Covid e un dopo del Covid c'è una nuova normalità che ci piace o no, questa è siamo qui oggi in virtuale, questo è un programma che verrà registrato noi sicuramente sappiamo che ci saranno altri eventi fisici prima o poi, credo anche di essere sicuro di dire che non ci saranno mai più eventi solo fisici, cioè ci saranno sempre eventi fisici legati a un evento virtuale e questa è la situazione questo programma che andremo a presentare è comunque parte di un programma di sviluppo che le Camere di Commercio fanno con il sostegno del Ministero dello Sviluppo Economico che insieme a quello del Ministero degli Affari Esteri a quale la Fiera in qualche modo usa come interlocutore e pensiamo insomma di affrontare quello che tutti voi avete detto dai giornali a breve ci saranno dei fondi disponibili insomma per il nostro settore ma anche per il nostro paese che dovranno essere poi utilizzati allora io cerco di fare il mio nel nostro campo ben cosciente di lasciare un debito ai miei figli perché di questo si tratta nel senso che poi questi soldi non ce li regaleranno ma prima o poi all'Europa, all'Italia e ad ogni settore dobbiamo comunque renderne conto allora cosa possiamo fare? Cercare di spendere nel migliore modo possibile toccheremo poi brevemente entro il 28 ottobre ieri è stata annunciata la nuova apertura dei fondi che attraverso la Simest saranno disponibili alle aziende per attività internazionali molti di voi hanno utilizzato questi fondi in realtà per la presenza in fiera all'estero però questi fondi possono essere utilizzati anche per altre iniziative non solo per le fiere all'estero vi invito a parlarne con i vostri interlocutori perché anche in questo caso è un'occasione che difficilmente ritornerà a queste condizioni è stata confermata il 25% dell'importo ancora a fondo perduto quindi cifre importanti e invece quelle che le cifre che saranno date a debito sono date a dei tassi di interesse che anche in questo caso è condizioni che non torneranno probabilmente mai più nella nostra storia futura quindi per le aziende italiane è una buona opportunità quindi prima di partire con la mia presentazione che in effetti sono 4 slides molto americane molto sul pezzo poi alla fine daremo una serie di contatti fra i quali ovviamente quelli di Federorafi per proseguire e ovviamente questo programma verrà poi comunque condiviso con i vostri colleghi e questo accordo fatto con Federorafi con un numero consistente di aziende mi pare di ricordare 1300 aziende più o meno ormai compreso anche i... però c'è stato un sassone Stefano quanto? 1500 ok mi sembrava che 1300 va bene allora la camera di commercio è una cosa che in realtà pochi conoscono almeno nell'ambiente nell'ambiente di dove troviamo oggi la camera di commercio di New York è una delle camere di commercio più antiche del mondo è stata aperta nel 1887 quindi stiamo operando da più di un secolo anzi mi sembra di ricordare che la camera di commercio fu aperta a New York prima del consolato italiano per darvi un'idea ed è stata inaugurata è aperta da un gruppo di importatori di olio d'oliva che andarono a Washington a protestare per i dazzi di importazione come vedete sono un po' argomenti che si tornano dopo un secolo ancora quindi che differenza c'è fra le camere di commercio e le altri lasciatemi dire attori di quello che chiamiamo sistema italiano che sono i consolati che sono l'ICE l'istituto di cultura e le camere di commercio le camere di commercio intanto sono entità che lavorano a contatto con il territorio non hanno una carriera diplomatica quindi le persone lavorano costantemente sul territorio i presidenti come me lo fanno pro bono e non sono pagati ma sono eletti dagli imprenditori del paese in questo caso nel mio caso negli Stati Uniti ma la struttura delle camere di commercio è una struttura a stretto contatto col territorio quindi nel mio caso è gente che negli anni ha visto varie iniziative ha visto quello che è successo ha visto quello che ha funzionato ha visto quello che non ha funzionato per esempio il direttore della nostra struttura è una persona che fa questo mestiere da 20 anni quindi a 20 anni in New York ha visto varie iniziative mentre magari faccio un esempio comparabile la direzione magari ICE ha poi un assegnamento di 3 anni o di 4 anni poi viene assegnato ad un altro mercato quindi noi siamo un'associazione privata non a scopo di lucro ma questo non vuol dire che non dobbiamo fare soldi vuol dire che dobbiamo reinvestire i soldi che veniamo assegnati alcuni fondi ci vengono dati dal ministero di sviluppo economico che devono essere però reinvestiti in breve adesso affrontiamo che cosa fare se dovessimo farla in inglese ci sono due parole di come affrontare questo periodo tutte e due cominciano con la F una è fate cioè quindi fede e una è fear quindi paura cosa hanno in comune queste due cose? beh la lettera F intanto in inglese ma a parte la lettera F hanno anche che tutte e due si riferiscono a delle cose che stanno succedendo in futuro quindi nessuno di questi due atteggiamenti ha una certezza di quello che succederà quello che noi possiamo fare è vedere al futuro con fede che sia positivo oppure avere paura del futuro ma nessuno delle due atteggiamenti ci dà una certezza perché possiamo solo scegliere come abbracciare questa cosa il motivo che abbiamo scelto con Claudia come titolo è un rinascimento perché è un rinascimento della creatività e dei risultati che avete visto in fiera anche in questi giorni anche nella fiera di Las Vegas a cui abbiamo partecipato c'è una ripresa che richiede non soltanto lasciatemi dire un'innovazione commerciale ma anche un'innovazione probabilmente di modelli di business per questo abbiamo creato Piazza Italia vedete questa questa slide è una piazza vera di Ascoli Piceno si chiama Piazza del Popolo che è stata scelta questa fotografia fra le migliaia di piazze italiane non perché sia particolarmente bella ma perché ha una connotazione di una piazza vera e come la comunità italiana occupa una piazza quindi immaginate che c'è una chiesa adesso al di là delle religioni nel nostro campo sono molto varie è un posto in cui la gente in un certo periodo della settimana va ad unarsi quindi immaginatela come uno spazio di eventi costante poi abbiamo sotto gli archi potete immaginare dei negozi quindi magari ognuno diciamo di noi può avere un negozio durante questa piazza Italia e sopra vedete dove c'è un terrazzo potete immaginare qualcuno che abiti lì tutto l'anno e abbia una presenza costante nella piazza quindi ragionate in questo modo Piazza Italia è il concetto e viene portata all'estero quindi vi trovate in una situazione che la vostra piazza la nostra piazza è adesso è a New York quindi andando avanti con la presentazione ci sono una serie di servizi che non vi leggo per aggravarvi però che cosa serve oggi per un'azienda per operare all'estero specialmente a New York la prima non è scontata secondo me bisogna essere a New York certo si può andare a fare la fiera certo si può mandare un agente certo si può andare 3-4 volte all'anno certo si può fare degli show privati ma credo che come abbiamo detto prima in un momento di logistica di persone di merci estremamente difficile forse una presenza in loco sia la cosa migliore però la presenza in loco negli Stati Uniti è sicuramente molto costosa allora noi abbiamo offerto una locazione sotto nome di Piazza Italia che ospiterà varie possibilità per le aziende italiane ognuna per il proprio livello ognuna con il proprio stadio di crescita e anche capacità finanziarie quindi stiamo creando uno spazio abbiamo creato uno spazio che si chiama Piazza Italia in cui c'è un concierge desk di una persona che risponde in inglese buongiorno Fope dico Fope perché ho qua Claudia o buongiorno Alberto Milani o buongiorno Marco Carniello ci sono degli uffici privati a disposizione vostra grandi piccoli medi per due persone per tre persone per quando venite in Italia in America o quando vorrete rimanere in America tutto l'anno stanze di conferenza c'è una ho qua i nostri amici di Ferrari che sono i nostri ringrazio intanto sono i nostri partner storici in questa in questa operazione in cui con cui lavoreremo per assicurare che la vostra merce spedita in Piazza Italia sia seguita da loro e poi appoggiata a noi dico una cosa non a prodomo di Ferrari ma a prodomo nostro del settore quando voi fate un'operazione all'estero affidate a Ferrari o ad altri corrieri la vostra merce mettiamo quelle che una volta perché più anziano venivano chiamate le collettive cioè quindi molte aziende vicentine o valenzane o aretine affidavano a un corriere campioni nuovi questi campioni venivano mandati a New York o a Las Vegas eccetera per una fiera per un evento poi c'è un'esigenza che questi campioni devono ritornare abbastanza velocemente nei vostri fabbrichi perché per n motivi ma perché Ferrari è un custode della vostra merce ma non è un gestore della vostra merce quindi quello che manca all'azienda italiana è di fatto un'entità legale dall'altra parte del mondo che prende la responsabilità costante della vostra merce e che sia responsabile per questo quindi questo non può essere né lice perché non è un'entità privata ma è un'entità di promozione pubblica né Ferrari ovviamente perché non fa questo di mestiere allora Piazza Italia sarà un modello di business in cui voi avete il vostro indirizzo che sarà a Mason Avenue quindi non insomma in mezzo alla campagna legalmente rappresentati a Mason Avenue e in grado anche faccio un esempio estremo voi potete potrete gestire il carnet vostro fra l'azienda americana e l'azienda italiana e la vostra azienda americana quindi muovendo il vostro inventario attraverso lo stesso sistema credo che sia un grande un grande passo avanti rispetto a quello che abbiamo oggi poi c'è un team di persone che sono dedicati io sono uno di queste diciamo che 30 anni che forse più di 30 anni che faccio questo mestiere però gli ultimi 30 in America ci sono delle altre persone che vi verranno presentate sono tutte persone che hanno fatto la differenza in America in questo business molte di voi le conoscono queste persone però diciamo che è un team di esperti che farà e fa solo gioielli o nient'altro quindi abbiamo sempre avuto l'esigenza di poi il pacchetto del gioiello ha anche una logica di capacità di gestione capacità di pacchettamento capacità di mostrarlo ecco noi diamo una serie di servizi per a completamento di questa cosa quindi non solo logistici con gli amici di Ferrari ma anche commerciali di rappresentanza di show eccetera quindi c'erano una serie di servizi che noi mettiamo a disposizione per una strategia di lungo termine quindi aiutarvi a una stesura di business plan con chi è esperto del mercato e a futura memoria vi ricordo che il business plan è quello che serve poi anche in caso voi dobbiate chiedere dei finanziamenti alla Simest servirà un business plan fatto in maniera logica e strutturata ovviamente abbiamo parlato dei servizi logistici annuncio oggi che il nostro partner è Ferrari abbiamo una cosa che è molto importante la capacità di sviluppare il vostro prodotto cioè se ci sono degli oggetti che pensiamo che possono avere un merito di sviluppo nel mercato ma magari devono essere aggiustati non so in peso in misure in disegno eccetera avrete un feedback dal mercato in maniera professionale per cercare di migliorare la performance di questi oggetti ma molte volte magari escono degli oggetti bellissimi che con dei piccoli accorgimenti potrebbero avere molto più successo quindi c'è questo servizio se chi avrà bisogno offriamo servizi di agenzia di vendita sia dagli indipendenti che dai department stores e tutta la catena poi c'è delle nuove strategie che adoperiamo per la gestione dell'inventario sia quello obsoleto sia quello nuovo la gestione dell'inventario nuovo ovviamente comprende la possibilità di fare consignment nei department stores gestire la difficoltà legale del movimentazione del prodotto alcuni di voi mi hanno chiamato in difficoltà avendo avuto la merce in consignment a Niman Marcus quando Niman Marcus ha avuto dei problemi di solvibilità molti di voi non avevano una protezione legale adeguata quindi quando poi la chiedi è troppo tardi perché ovviamente queste sono cose che magari avremmo dovuto gestire in maniera diversa la gestione invece dell'inventario in eccesso vi faccio un esempio che tutti voi conoscete bene la merce oggi che è in Cina non può ritornare dalla Cina quindi prima o poi questa merce che sta in sovra posizionamento all'interno dei negozi se non si trova un sistema per togliere dai negozi non si potrà mai vendere la merce nuova all'interno dei negozi la stessa cosa succede in America cioè quindi magari un cliente per fare posto per voi per avere posto le nuove collezioni che presentate magari c'è la sensità di snellire la parte di inventare esistente Piazza Italia vi offrirà delle soluzioni di pagamento immediato dell'inventario esistente per alleggerire la vostra posizione quindi questo è un altro servizio nuovo che abbiamo introdotto sul quale poi parleremo in più con i dettagli ultimo la interazione digitale interazione digitale a tre livelli avete avrete una stanza virtuale vostra in cui creerete il vostro ufficio avrete 15 finestre in cui creerete i vostri 15 best seller diciamo e potete interagire con la stessa base che avete come Zoom oggi con dei vari via quindi cerchiamo di dare una soluzione più lasciatemi dire sofisticata ma anche forse vicina più al lusso che è una piattaforma come Zoom o come altre situazioni simili in cui voi create e la vostra stanza avete la possibilità di interagire idealmente avete una persona a New York che vi aiuta voi a Valenza o a Vicenza o ad Arezzo e dall'altra parte fino a 250 buyer collegati nello stesso momento in cui abbiamo la possibilità di interagire a più livelli l'ultima è quella che abbiamo firmato un accordo strategico ultimamente con la più grande piattaforma di gioielli negli Stati Uniti che si chiama gedora.com poi avrete alla fine i commenti i contatti siamo in fase di ultimazione questo mese ma è già visibile e dal primo ottobre verrà lanciata con la possibilità di vendere direttamente al cliente finale negli Stati Uniti un investimento da 130 milioni non è mai stato fatto nella storia del gioiello un investimento così alto su una piattaforma digitale per vendere solo gioielli non è mai stato fatto questo non vuol dire che sarà il successo del secolo vuol dire che non è mai stato fatto prima quindi questa è la cosa che altre cose possiamo fare possiamo organizzarvi degli showroom privati in piazza Italia e quando sia al cliente finale sia al cliente all seller quindi fisicamente e virtualmente direi che questi sono i servizi generali che cos'altro si può offrire si può offrire questo è il nostro spazio è uno spazio che è a Madison Avenue e 44esima a New York il primo ufficio è mio quindi non è disponibile però gli altri sono vedete che hanno dimensioni diverse sia larghe che piccole con sale riunioni eccetera un piano dove si possono ospitare circa 50 aziende che abbiamo affittato per voi la scelta che verrà fatta verrà fatta chiedendo all'azienda vuoi uno spazio permanente tutto l'anno o vuoi uno spazio solo ed esclusivamente quando tu verrai a New York quindi un punto di appoggio per per la tua azienda per le tue persone e in base a questa a questa situazione offriremo 4 membership le vedete sopra Madison Park Broadway e Lexington che hanno una serie di servizi come le carte di credito ovviamente Park Avenue è quella che ha più servizi ma ovviamente costa anche di più e quella invece Lexington è quella che ha meno servizi e costa meno ma non vuol dire che sia meno meno di valore dipende dal servizi che voi ci chiederete e che avrete bisogno una serie di servizi che vengono offerti va bene la segretaria diciamo che risponde con il vostro nome la possibilità di avere una cucina uno spazio per storage la possibilità di avere merce assicurata dei campionari servizi di interpreti trasferimenti diversi linguaggi abbiamo una sala relax vari utili varie connessioni ovviamente digitali la security quindi abbiamo security per il vostro campionario e una serie è assicurata è la nostra assicurazione sul vostro campionario fino a 2 milioni di dollari per azienda quindi poi abbiamo il showroom virtuale che vi ho spiegato e poi sono tutti gli altri servizi ultima cosa è l'ultima chart ho cercato di fare il più presto possibile questo è il building lo vedete sul corner 44 e Madison è il building dove noi siamo oggi come camera di commercio la parte invece retail che sarà per la seconda parte dell'anno ha questo la possibilità anche di offrire uno spazio vostro retail quindi diciamo poi anche lì ovvio in base alla vostra esigenza allora la prima sulla destra in alto immaginate che sulla destra è quello spazio dove vedete dei counter davanti sia uno spazio dell'azienda Alberto Milani oppure invece l'azienda di Stefano De Pascale è quella sicuramente avendo più soldi della camera di commercio avrà quella destra in fondo con un negozio e invece quella di Claudia che invece è la presidentessa abbiamo quella dove c'è la sala del camino la sala ovale in cui faranno le interviste solo i presidenti questo è un altro sviluppo che avverrà alla fine del 2022 quindi diciamo che c'è una serie di servizi lasciatemi dire a misura vostra dalla biglia al cannone che è un po' se volete la la vera identità della camera di commercio cioè la camera di commercio è nata per dare non dei servizi generalisti ma dare dei servizi in base a quello che l'azienda specifica individuale abbia bisogno che non è sempre la stessa cosa cioè l'azienda padronale o familiare ha delle esigenze diverse dall'azienda di alto livello uno dei nostri soci è Pepsi immaginate che ovviamente ha esigenze diverse da un'azienda di giovederia quindi noi dobbiamo adattare quello che diamo alle varie situazioni quindi avrete è un'azienda la camera di commercio è un'azienda di super consulenza in cui all'interno di ogni settore specifico avete degli esperti nel mio caso insomma qualcosa di gioielli ho capito allora questa è la la parte invece finale io spero che molti di voi diventeranno parte attivi di questo futuro di Grazia Italia i nostri partner sono stati annunciati anche in questo caso avremo delle aziende di importanza internazionale sia a livello dei gioielli che a livello assicurativi logistiche bancarie eccetera ma io credo che lascio a Claudia le ultime parole da Presidentessa ma io credo che sia una cosa che intanto nella storia non sia mai stata fatta quindi questo poco ma è sicuro l'accordo con Federorafi darà la possibilità di promuovere all'interno del vostro circuito questa possibilità poi sia noi che Federorafi lavoreremo per insomma per trovare la giusta soluzione per voi ringrazio i senior la presenza dei senior del nostro business Augusto e Joe e Diego ma ringrazio anche Salim che è uno dei miei partner storici per il mio brand in questo caso però come vi ho detto questa presentazione però era condivisa con tutti alcuni hanno ricevuto in maniera privata di già da me e quindi insomma vi auguro il meglio cercando di aiutarvi il più possibile io ho poco da aggiungere penso che tante saranno le domande piuttosto in una sede separata perché credo che sia chiaro ed evidente quella che è l'opportunità e di conseguenza abbia solleticato la curiosità e l'interesse ad approfondire mi piace anche non l'ho detto prima ma lo dico adesso mi piace il fatto che ci sia un accordo tra federorafi e la camera italo-americana perché secondo me è un bel segnale a livello istituzionale che conferma sia una volontà del settore ma che se mi permettete l'espressione estremamente diciamo banale conferma il fatto che l'Italia mette piede in America con il gioiello in maniera istituzionale quindi è un'espressione terra-terra però figurativamente parlando dà proprio l'idea di come andiamo a piantare bandiera in qualche modo e poi perché anche ascoltandoti si percepisce come effettivamente un'istituzione possa essere a servizio di un settore che è la cosa che penso che tutti desideriamo auspichiamo e molto spesso non siamo stati soddisfatti in questo nostro desiderio quindi grazie Alberto e grazie a tutti voi per essere intervenuti l'ultima chart vi farò vedere ai contatti se magari volete se c'è qualche domanda faccio io la valletta no no mi piace fare la valletta se c'è qualche domanda ma penso che le domande secondo me saranno più sostanziali di conseguenza da affrontare in separata sede diciamo intanto questi sono i contatti avete il contatto della Camera di Commercio riferitevi a Piazza Italia ci sono delle domande non tanto per adesso ma insomma in una platea più allargata a cui Stefano e Claudio introdurranno insomma il programma c'è il mio che capisco che non è molto molto italiano questa cosa invece in America quando uno parla mette la propria di email perché così se sarò inondato di email me ne tengo e mi rispondo sicuramente vi rispondo non ho mai non risposto a un email nella mia vita quindi vi risponderò magari non subito ma entro 24 ore vi rispondo la GEDORA è la piattaforma invece a cui facevamo riferimento di cui molti di voi la maggior parte di voi sono già parte e noi gestiamo io gestisco in prima parte la parte italiana e invece Federolafi ovviamente è l'inviso di Federolafi quindi questa è la cosa la Camera una cosa che ha detto Claudio adesso ultimamente forse non è chiaro non è mai stato molto pubblicizzato noi abbiamo le mie sorelle camerali sono 81 quindi noi siamo in 81 paesi e la mia area di competenza che è l'area nafta gestisce 5 camere negli Stati Uniti quindi New York Chicago Miami Houston e Los Angeles ma la mia area gestisce anche tre camere canadesi quindi Toronto Montreal e Vancouver e una camera messicana a Messico City che ha poca a che fare con noi come lingua come cultura ma è parte dell'accordo nafta quindi vi ho detto questa cosa perché lo stesso ragionamento attraverso una mia sorella camerale e attraverso persone illuminate come Claudia e Stefano potrebbe essere anche esportato in altri paesi dove voi fate business nel quale io personalmente non posso aiutarvi ma posso facilitare lo stesso ragionamento con un'altra camera penso intanto a quella cinese o quella indiana o quella non lo so tedesca quindi grazie ancora e siate ambasciatori insomma anche voi di Piazza Italia parlatene con i vostri colleghi ed è volutamente noi abbiamo utilizzato diversi livelli cioè quindi c'è la la presentazione dei servizi per i produttori per i brand per per chi non ha un brand ma vorrebbe partire da verlo negli Stati Uniti quindi non è soltanto per un livello è per tutti i livelli come secondo noi dovrebbe essere grazie ancora Stefano c'è qualcosa da aggiungere grazie a tutti grazie a tutti